Si è svolto a Giulianova il Consiglio Generale della CISL a Bruzzo Molise. L'obiettivo dell'incontro è stato quello di fare il punto di fine anno, ma soprattutto capire quali possano essere le dinamiche su cui lavorare per il 2023. Un'assemblea con delegati e attivisti per discutere anche della manovra finanziaria e delle proposte della CISL finalizzate a migliorarne e rafforzarne i contenuti, a favore di lavoratori, pensionati e famiglie. È un momento di confronto, è il nostro Consiglio Generale, il massimo organismo su cui fare sintesi su tutte le tematiche che vengono riportate dalle federazioni e vedere quindi come fronteggiare una crisi che nei nostri territori, soprattutto in alcune aree territoriali, è molta aguita e quindi va fatto tutto affinché si possa trovare le giuste strade attraverso le fondi di finanziamento e attraverso le misure sia nazionali sia quelle che noi richiediamo anche a questa aggiunta di mettere in campo per le famiglie, i lavoratori e le imprese. Presente all'incontro anche Giorgio Graziani, componente della Segreteria Nazionale CISL, che ovviamente ha tracciato un quadro nazionale in particolare sulla manovra del governo Meloni. Di sicuro va evitato l'esercizio provvisorio perché ci metterebbe in una condizione davvero di grande disagio e difficoltà per cui chiediamo al Parlamento di accelerare e poter approvare la manovra e iniziare quindi a, da una parte, mettere in campo le misure definite e guardare al futuro perché ci sono tante, tante, tante riforme che non sono parte della manovra sui che noi abbiamo chiesto al tavolo con il Presidente del Consiglio che vanno affrontate a partire dalla riforma delle pensioni, a partire dalla riforma del fisco, le politiche sanitarie, industriali, le politiche sulla non autosufficienza. Quindi abbiamo necessità di fare in fretta. Poi è chiaro, sulla manovra noi lo stiamo dicendo da quando è stata proposta la legge di bilancio che adesso è in discussione in Parlamento, ci sono delle cose che ci piacciono, ci sono delle cose che hanno criticità importanti, ci sono delle cose che non ci piacciono per nulla. La discussione anche sulla base di quello che è stato l'incontro del 7 dicembre scorso ha dato qualche anche interessante passo in avanti, su alcune cose è utile lavorarci ancora, speriamo che queste ultime ore ci diano ulteriori risultati positivi perché rappresentiamo.